allora allora non notate qualcosa di strano oggi e si guardate mio padre mi ha preso il brawl pass con i soldi e ho preso la energetic no con la skin perchè non sono arrivato alle 70 di soia ragazzi ma ho sbloccato energetic e inoltre ho sbloccato anche questa la skin di brock super ranger e dato che avevo le gemme ho preso anche questa skin di jessy ragazzi ci sono molte sorprese infatti ragazzi guardate le reazioni di energetic che ho solo questa è questa che mi è uscita già e la prossima se ci riusciamo prendiamo pure questa bene perfetto ragazzi perfetto ok adesso sapete che facciamo una bella brawl con energetic in squadra ok allora ragazzuoli giochiamo con energetic però non so dove appoggiare il telefono per riprendere ok ragazzi allora il gameplay lo sta facendo mio cugino che è timido non vuole salutare perché non lo so perché comunque ragazzi sta giocando lui è praticamente venuto a casa ed è per provare energetico ovviamente però devi fare le missioni che se no non arrivo mai alla soia del che piange energetic quella la nuova praticamente cosa nuova reazione ok ok ragazzi ce la stiamo facendo molto mio cugino è arrivato a questo punto beryl si è rotolato ma fa attenzione dai che ce la puoi fare vai 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 ok perfetto ok allora ragazzi non è veramente mio cugino però è per me come un cugino perché siamo amici stretti però ragazzi è un altro amico che probabilmente ho conosciuto qualche mesetto fa al parco di capranica e mo è venuto a casa a cena ok fa attenzione fa attenzione marco ok bravo fa attenzione perché per me è come un cugino dopo davide viene lui ok vai metti la spada sapete che marco a 290 coppia ha sbloccato piper c'è grande marco si troppo forte vabbè raga è timido non parla perché è la prima volta che lo riprendo c'è non lo sto riprendendo di faccia però sei bravo a gioca marco è sei molto bravo non morire non morire con jacky ti prego ragazzi comunque ma che ti stai baggando marco fatte no marco non suicidarti ma la ma sta laggando perciò ti blocchi o no non sta da dai da 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 comunque me l'hai vinta grazie marco ok adesso riprendite marco ok quando vuoi stoppare stoppa vabbè se vuoi pure adesso ok ragazzi adesso sto riprendendo marco è sempre timido messo belli perché devo fare una missione che da 250 ognuna quindi ragazzi posso sbloccare anche le reazioni grande che ce la fai dai no dai non riprendermi marco marco c'è pocio che si è baggato dai e sbaggati cioè non è che poi sta baggato tutto il giorno pocio vai 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 mamma mia lo sapevo guarda sono morto vero marco è timido raga è timido è timido molto timido perché mio questo amico che non voglio più vedere è timida e non si vuole far vedere riprendi lo schermo o se no dico il tuo cognome molto strano a di cognome fa crocicchia ognuno è molto bello strano ma bello è comunque ragazzi voglio non mi fare il dito me pocio però fa il ma non fare il nabbo perché allora ragazzi la missione non è andata a buon fine però voglio vedere altre missioni causa ecco quella che ti dicevo perché mi riprendi tutto allora quale dovrei fare no non mi riprendere marco marco non glicciare il telefono marco marco siamo minorenni non dobbiamo farci prendere se noi commenti ce li levano te lo fanno ti sta per cadere il dente marco è e marco comunque li prendi allora ragazzi dobbiamo fare oh mio dio ragazzi però sai che possiamo fare adesso con le missioni possiamo fare vinci 10 partite con jessi va bene potremmo fare che ragazzi che dopo marco gioca però dopo che gli è passato il dolore al dente smettila di glicciare ti sto guardando eh ti sto guardando non piangono non fa il finto tonto dai neanche questa mo si muove grande rosa aspettate mo botto 5 quindi ci sono i botti sono i botti in battaglia ma io lo sapevo che morivo eh oh no ma perché devi rosa stai facendo schifo no guarda marco ma guardi marco che cacchio cioè ma sei scema questa è scema metto la mia torrettina ok 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 pro max pro max aiuto ci sta danneggiando molto guarda lo sapevo che però sta rosa è nub allora ok ragazzi adesso io sono deciso di mettere in singolo sapete perché eh sta laggando perché così in singolo moriono più persone e io posso vincere tranquillamente mentre mentre devo morire tutte le squadre ci vuole tanto ok quindi oh mio dio oh mio dio ok speravo di morire che credevo di morire marco non mi distrarre dai dai marco sta facendo il ballo del culetto non sentite lo schiaffeggio ma lo sta facendo ma che sta combinando marco riprendi di più che sei un grande oh questo brocco si è incazzato perché io ho rubato le gasse ok scleri su bro stars una compilation marco ti si muove il dente mamma mia inquietante raga scrivete nei commenti marco halloween aia ma perché da sbatte la porta perché c'è vento ma ok qua abbiamo possibilità di vincere vedete guardate quante guardate quante possibilità abbiamo ci sono gli spiriti in questa casa vero marco perché non pari fatti sentire alla gente fatti sentire mamma mia marco lui c'ha 8000 coppe è troppo forte su brawl ce n'ha 8000 se volete il suo autografo dovete scrivergli dovete si chiama lolito290 c'ha spike l'ha trovato a 2800 coppe c'è troppo forte spike io ho trovato leone a 500 no cioè vabbè dai era semplice ucciderlo no no allora ragazzi spero che questo video con Jesse vi sapete lasciatevi a lasciare lasciatevi piace iscrivetevi al canale iscrivetevi nei commenti hashtag marco e halloween ciao un saluto da Josh